Uccisa con tre colpi di pistola, il corpo sotterrato parzialmente, è stato rinvenuto così poco prima dell'evento il cadavere di Giovanna Arrigoli, 41enne di Melito. Il cadavere della donna è stato rinvenuto dai carabinieri alla periferia est di Melito, in via Giulio Cesare, nei pressi di un palazzo disabitato di sei piani occupato da senza tetto. A dare l'alarme è stata una persona che stava depositando dei materiali ferrosi nella zona. La 41enne aveva precedenti per droga e la sua scomparsa era stata denunciata sabato scorso da parte dell'amica con cui condivideva l'appartamento. La donna è stata riconosciuta grazie a due tatuaggi, uno sulla spalla che raffigura il volto di un uomo e uno scritta sulla gamba. La 41enne è stata assassinata con tre colpi di pistola, due alla testa e uno al torace, poi il corpo è stato scaraventato in una sorta di fosso in modo tale da nasconderlo alla vista di passanti e automobilisti. Nonostante ciò un uomo lo ha notato ed ha lanciato l'allarme telefonando al 112. Sul posto sono così arrivati i carabinieri della compagnia di Giuliano insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini ed effettuati i primi rilievi. Gli inquirenti non escludono che la vittima possa essere stata uccisi in un altro posto e che poi il suo assassino abbia trasportato il cadavere fino in via Giulio Cesare per saperdirlo. La donna, secondo quanto ha preso, gestiva un bar in via Lussemburgo a Melito, zona nota per lo spazio degli stupefacenti.